www.feyyaz.tv le scale cosa hai detto una donna con le palle amore una frase di un sessismo incredibile cioè parli come un maschio al fatto però già in mente una serie di persone che puoi incontrare che ti possono aiutare la società è governata da uomini e le leggi le fanno gli uomini è una questione cioè la logica è ancora una logica di tipo patriarcale no che c'è sto microfono andava benissimo fino a ieri come mai nel mondo del porno ci sono spesso scene dove la donna è sottomessa il senso della sottomissione viene dalla lettera di san paolo è sottomettiti a cristo ma sottomettersi vuol dire mettersi sotto per poter sostenere il tavolo non sta su se non ci sono le gambe ed è quello che fanno le donne se io vengo cresciuta ancora prima di nascere parlano alla pancia di mia madre in un modo diverso se io sono un maschio o se io sono una femmina figuratevi il genere che profondo è guarda dove l'hanno messa dove l'hanno messa ai piedi dell'uomo il posto giusto lì devono stare stai scherzando? si sto scherzando guarda sei veramente un maschilista sei stupido a bocchi sempre mi consente ma non ho capito molto bene lei viene? lei viene? si ma scusi una volta sola? no sono due gli impianti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.